Bella a tutti ragazzi, qui ad Umeyang e benvenuti in questo nuovo video dove vi esprimerò il mio parere per i convocati di stasera 7 giugno della partita Italia-Uruguay amichevole prima della qualificazione mondiale contro il Liechtenstein e quindi i convocati saranno anche per il Liechtenstein e inoltre vi dirò il mio pronostico per questa partita iniziamo subito con i convocati, in porta Buffon, Donnarumma e Scuffet ci può stare dato che sono i portieri che al momento stanno meglio fisicamente anche se forse Scuffet poteva essere rimpiazzato da qualcun altro come anche Meret della Spalla in difesa abbiamo Astori, Barzagli, Bonucci, Caldara, Ceccherini, Chiellini, D'Ambrosio, Darmian, Emerson, Romagnoli e Spinazzola per quanto riguarda il gruppone della solita nazionale Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, Romagnoli ci sta perché sono loro titolarissimi e devono insegnare ai giovani per quanto riguarda anche Caldara, D'Ambrosio, Emerson e Spinazzola ci sta perché sono stati convocati anche contro il San Marino e devono ancora imparare e devono avere un'opportunità per quanto riguarda Ceccherini non sono molto d'accordo perché secondo me a questo punto poteva convocare benissimo Paletta che ha fatto un'attima stagione con il Milan però comunque Ceccherini non ha fatto una cattiva stagione se lo merita anche però ripeto Paletta secondo me una chance la dovrebbe avere passiamo ai centrocampisti con De Rossi, Marchisio, Pellegrini, Verratti e fino a qua sono d'accordo arriviamo al punto forte, Montolivo vorrei spiegare due parole per Montolivo sì è vero che è stato infortunato e deve riprendersi di avere un'opportunità però non capisco perché l'Italia continua a puntare su Montolivo che è sempre stato criticato ce ne sono molti di italiani centrocampisti anche giovani che secondo me potrebbero almeno tentare di entrare nella nazionale come ad esempio Benassi, Baselli, anche Cataldi del Genoa in prestito dalla Lazio ma anche i capezzi del Crotone ne hanno salvato Magnanelli del Sassolo che ha fatto delle ottime stagioni proprio con Nero Verdi ma anche il talismano Padoin comunque secondo me tutti questi sei sono meglio di Montolivo sempre stato criticato perché dovrebbe ancora giocare il nazionale soprattutto dopo un infortunio per quanto riguarda gli esterni invece abbiamo Bernardeschi, Candreva e Sharawi in signe qui sono d'accordissimo perché sono i migliori esterni italiani in circolazione sono in ottima forma, hanno finito il camionato alla grande forse è un po' meno che Andreeva nell'Inter ma comunque ha fatto una bella stagione Bernardeschi va benissimo della Fiorentina, italiano doc e passiamo agli attaccanti con Belotti, Immobile, Gabbiadini e Der per me Ventura qui ha fatto le scelte migliori perché Belotti, Immobile ormai è la coppia titolare anche se Gabbiadini ha fatto un'ottima seconda parte di stagione al Southampton dove ha fatto molti gol e si è ripreso dopo la prima parte di stagione passata al Napoli in panchina e soprattutto ha fatto bene a convocare Ider che nell'ultimo periodo al posto di Cardi nell'Inter sta facendo molto bene quando è nazionale, questo lo sappiamo tutti, gioca sempre meglio di come gioca nell'Inter quindi auguriamoci che riesca a segnare anche in queste partite che sono importanti per i mondiali ora passiamo al pronostico secondo me l'Italia contro l'Uruguay dovrebbe vincere o al massimo pareggiare perché comunque l'Uruguay non è più tanto forte come una volta anche se ricordiamo che ci ha eliminato i mondiali nel 2014 con un gol di Codin penso che però l'Uruguay un gol lo segnerà così come l'Italia quindi ovvero 1.5 gol se volete quindi questo era il pronostico per la mia partita di stasera Italia-Uruguay se il video vi vi piacciono mettete like e iscrivetevi al prossimo video ciao ciao ciao